Sindaco Montà, quanto lavoro c'è di un sindaco e di un'amministrazione comunale dietro un progetto avveniristico come questo per Grugliasco? È un grande lavoro frutto di anni di impegno, di recupero di risorse, ma anche di convincimento del fatto che Grugliasco ospita un progetto di dimensione metropolitana e che da un punto di vista della ricerca e dei saperi ha uno sguardo a livello nazionale e internazionale. E quindi il senso di responsabilità è per il proprio territorio e per la propria comunità che avrà un cambiamento radicale da un punto di vista delle prospettive di sviluppo ma anche di mettersi al servizio degli altri enti e dell'università per farne un progetto di qualità a livello economico, infrastrutturale e dei saperi.